Musica Buonasera cari telespettatori e bentornati a Dilla Stellina lunedì, martedì, giovedì e sabato 19.30, canale 16 Super J, la mail di Dilla Stellina è chiocciola, superj.it, il numero whatsapp è 351 7532 450, come vi ricordo questa è una special edition perché siamo in quel di Sanremo, alle spalle di Davide che sta facendo le riprese, il giro di Davide c'è il teatro Aristono dove questa sera partirà la Kermescanora, la 73esima edizione di Sanremo appunto, noi siamo qui facciamo un giretto al centro, siamo in piazza Cristoforo Colombo dove questa sera ci sarà il concerto di Piero Pelù, quindi andiamo a sentire la gente cosa dice, fa freddo, scusate il cappello, la sciarpa ma qui la voce è già andata via, giorni fa stiamo cercando di recuperarla ma non sarà facile, andiamo a sentire cosa dice la gente di questo Sanremo 2023. Siamo con un amico di grande stazza, di grossa stazza, Domenico Michilli Tartuffi, Domenico ben arrivato a Sanremo! Take you Stellina! Che ci fai sentire? Facciamo una bella regina da campagnola, siamo abruzzesi! Grazie Domenico, complimenti, ma a me sto do botte, mi pare una faccia conosciuta! Eh, questo è uno strumento teramano! Sì sì, ma proprio la proprietà di sto do botte! Marco Anto Caccadone! Ma te lo presentiamo, te lo presentiamo, te lo presentiamo! Diego, appena arrivò a Sanremo! Grazie, grazie! Vi ho detto, poi vado su, forse stanno meno matti, invece c'è chi un matti qua su che io noi! Ne stai metti in giro, come puoi vedere il palcoscenico è grande e aperto! I matti fanno i chilometri, insomma! I matti fanno i chilometri, infatti qua su a Sanremo ce ne stanno tanti! Come vi sembra questo Sanremo? Freddo! Però sono delle belle giornate, quindi ce le godiamo per quello che sono e da oggi, per noi da oggi, magari qualcuno da prima, fino a domenica noi siamo qui! E quindi va bene! E tu non ci dici niente? Come stai? Come stai tu? Sto bene! Sì? Malattie sono passate? Sì, diciamo che però... Il luminario ti è messo a posto? Sì, tutto regolare, tutto regolare, fa freddo, l'abbiamo già detto tante volte, girano un sacco di belle presenze, come potete vedere, a noi ci piacciono, buonasera! Buonasera, buonasera! E' come, è molto! Buonasera! A me ragazzi è stato un piacere, speriamo di incontrarci di nuovo! Andiamo a trovare altri matti, non è frattempo! Buonasera! Ciao Super J, salutiamo Super J! Allora ragazze, buonasera! Buonasera! Ma stasera siete qui o sarete a casa a vedere il festival? Io sarò a casa a guardare, poi uscirò! Ah, quindi prima festival e poi fuori, tu? Case e basta o scuola! Case e basta, case e basta! Chi vincerà questo festival? Vorrei dire che non hai, ma probabilmente vincerà Mengoni! Ti vedo già delusa! Eh, un pochino! Perché? E' bravo, per carità, ma non è il mio gusto! No! No! Quindi preferiresti Tananai, però la vedi dura? Sì, la vedo dura! E questi ragazzacci, tipo Lazza? Non è il mio genere! Non è il tuo genere! Tu invece cosa pensi? Ah, io vorrei Lazza, vedo D, però secondo me Giorgia o Mengoni vinceranno! Giorgia, Giorgia è un nome che si sente moltissimo negli apprezzamenti della gente, una donna perché no, perché manca ormai la vittoria da diverso tempo! Esatto, sì! Giusto? Come la vedete, assolutamente sì! Come la vedete Sanremo in questo periodo, voi che siete di qui, è un disagio oppure vi piace? No, è un disagio! Un disagio? 20 minuti solo per fare 5 metri, un casino! Di solito in quanto si percorre? 2 minuti? Sì, sì, non c'è tutta sta gente, un casino! Quindi è un casino, però è bello, dai! Sì, è una bella atmosfera! Tu che mi dici? Ma allora, è bello perché è bello vedere gente in giro, è bello avere una settimana in cui c'è qualcosa da fare, i VIP, passare il tempo così, un po' di atmosfera, un po' di musica, però in effetti come spostamento è fastidioso, è fastidioso però ci si accontenta secondo me, cioè può andare bene, soltanto perché è proprio bella l'atmosfera che c'è. Va bene, ragazze, grazie e buona serata ovunque voi la passiate! La, indovino con una! Siamo col famosissimo Uomo Gatto, ricordiamolo, eroe indiscusso di Sarabanda, buonasera e ben rivisto! Eh, buonasera ed è bello tornare in questa meravigliosa città dopo un po' di tempo, ho avuto un po' di problemi di salute, problemi familiari, però è bello tornare in questa magica città. Questa sera non sono da solo perché c'è anche la mia compagna che dallo scorso giugno sta alliettando le mie giornate e di cui sono molto molto innamorato. Quindi un uomo gatto innamorato a Sanremo? Beh, visto che siamo a Sanremo e Sanremo è la città della canzone, innamorato sempre di più, in fondo all'anima per sempre tu. Questa è la canzone che associo al tuo amore? Beh sì, però vabbè questa è la prima che mi è venuta in mente. Chi vincerà a Sanremo? Ti faccio una domanda difficilissima. Ma sicuramente vincerà quello che prende più voti. È una bella bomba! Sì sì, magari la puoi far girare sui social, questa battuta. Cioè chi prende più voti vince il festival. Non hai un cantante preferito? Ma guarda, io ti dico la verità. Ma dovresti indovinare facilmente? No, guarda, ultimamente negli ultimi anni Sanremo il pronostico scontato non c'è mai perché succede sempre qualcosa. Io tifo per la musica. La musica è bella, la musica è vita e io non riesco a immaginare un'esistenza nostra senza di lei. Ci saluta Giulia. Ciao, ciao a tutti gli amici. Di Super J. Di Super J, ovviamente. Grazie, buonasera. Grazie. Rosa, ci fai un saluto? Rosa! Rosa! Siamo con due amici, si può dire amici? No, forse io sì, è meglio. Facciamo in ordine alfabetico, albano, basso, stellina. Stellina, stellina. E allora vai là. Di qua, di qua. Allora, ragazzi come va? No, noi stiamo meglio là, Fede. Sto capendo un cazzo. Ragazzi, come va questo Sanremo? Bene, bene. Non è bene. Non ci danno come super favoriti quest'anno. No, no. Però noi ci mettiamo tutto l'impegno che abbiamo. Perché io quando ho cantato, io albano, ho cantato con Romina tutto bene. Voglio cantare con basso, niente. Forse non è lo strumento che gli sa dire. Esatto, posso dire che abbiamo comunque dei cognomi musicali? Bella. Basso, lo strumento. Basso, albano. Non ci avevo mai pensato a questa cosa. È bello perché mentre noi siamo qua in mezzo a una piazza, ovunque la gente vede una luce accesa, un focolare. Si può cominciare. Infatti si avvicinano. Si buttano e chiedono. Fai una domanda bella. Fai una domanda bella. Chi vincerà Sanremo? No, è una domanda bella, dai. Per scaramanzia non possiamo dirlo. Guarda, anche perché ho puntato tutto su Fausto Leali. Ah, benissimo. Ricordiamo, Basso Leali già l'ha vinto una volta, quindi forse... C'era passato qualcuno che evidentemente non aveva Fausto Leali alle Fanta Sanremo. No, nel Fanta Sanremo, assolutamente no. Per il resto stasera Piero Perù o Festival di Sanremo? Festival di Sanremo in poltrona, tra l'altro, perché... Io ho a letto con Netflix. Ottimo. No, con il proprietario di Netflix proprio. Sì, parliamo di serie e tv, quelle che arriveranno. Non siete per niente che ho lavorato a zero, chi vuoi? Però dovresti... Non siete epistato. Infatti tu pensa, sembri serio in confronto a noi. Assolutamente sto a fare una figuraccia. Dovresti però sbilanciarti anche tu, secondo te chi vince? Chi vince? I miei occhi dicono Elodie, però poi le orecchie sicuramente... Ah, tu la guardi con gli occhi? Il mondo! Siamo con Domenico Sistilli. Buonasera, incontrato casualmente a Sanremo. Casualmente, casualmente. Casualmente, impresario delle nostre zone che però viene a calcare il green carpet. Sì, sì, stasera mi aspettano tutti. Infatti sto andando in hotel a cambiare, stasera in smoking per la prima, chiaramente. No, no, scherziamo. Come ogni anno ci ritroviamo a Sanremo. Ormai da tantissimi anni veniamo qui per vedere un po' quello che succede, no? Che aria si respira, dov'è? Beh, aria... aria di festa, naturalmente. La settimana di Sanremo sappiamo tutti che è una settimana importante, è una settimana dedicata alla musica. Siamo tutti qui a... ciao! Siamo tutti qui ad aspettare un po' quello che succede e speriamo, come si dice sempre, vinca il migliore. Lo sai. A proposito di vinca il migliore, secondo te chi vencerà? Tanti rumor, tante parole, qualcuno si sbilancia, eh? Tu che ci dici? Ma non mi sbilancio perché sinceramente non ho idea di chi possa vincere, perché tanto qui si inizia stasera, poi durante la settimana le carte si mischiano, ogni sera c'è qualcosa di diverso, qualcosa che cambia e non siamo chiaramente noi a decidere, lo sanno solo loro quello che può succedere. Va bene, Domenico grazie, è stato un piacere. Grazie, ciao Supergeni. E ci vediamo in zona nostra, va bene? Certo. Mamma mia ragazzi, ho fatto due chilometri oggi. Dove sei stato? No, di più, di più. A Casinò? No. Siamo stati a fare una... Fichi fichi. No, sono andato a trovare dei vostri colleghi, dei miei amici, televisioni, radio, che sono qua, tutti a Sanremo, così allora, tra una cantata e l'altra, ci siamo bevuti anche qualche spritz. Bravo. Qualche frizzantino. Ma no, ma stasera sei in piazza o ti vedi il festival? Stasera abbiamo appuntamento con delle nostre amiche, colleghe, cantanti e poi ci guardiamo anche un po' il festival. Gianni, ti lascio la tua passeggiata. Ci vediamo in questi giorni. In questi giorni. Grazie Gianni, gentilissimo. Ciao, ciao. Sicuramente dalla mise entrerete a teatro, giusto? Sì. Secondo voi chi vincerà questo festival? Bella domanda. Chi vincerà? Le previsioni si fanno prima che inizi, altrimenti non sono valide, giusto? Chi vincerà? Chi vincerà? Non lo so, sono tutti bravi. Non so, qualche ragazzo giovane oppure... Gian Maria. Gian Maria. Signora? Mi piace molto a mia nipote, perciò sicuramente... Gian Maria, magari tra i giovani può essere. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. C'è una novità. È una donna? È una donna, una donna che potrebbe essere. Ma Giorgio, ne lo dì? Eh, eh, ne lo dì, ne lo dì. Eh, ti piace lo dì? Eh, beh, perché te no? Eh, no, no. Ah, no? Va bene, signori, grazie. Grazie, grazie. Come vedete, tutti i protagonisti del festival, da Amadeus a Gianni Morandi, la Enogla e la Ferragni, tutti di corsa verso il teatro Ariston. Eh, si vuela! Sarema, sarema. Vi siete fatte una bella foto a vicenda? Sì, fatto, fatto. Fatta, signora? Sì, fatto. Chi vincerà questo festival? Un po'. Quando? Non si sa, come possiamo sapere. E lei cosa pensi? Chi vincerà? A me sicuramente piace quelli vecchi, no? Tipo Enrici Poveri, Morandi, Pupo, Albano. Io ho delle vecchie tradizioni, no? Ma ci sono anche tanti giovani, fa bene per loro anche. Sì, speriamo vi vinceranno anche. Una novità. Sì, una novità e una nostra, cioè di vecchi tempi. Sì, una per una, sì. Sarà bello così. Signore, buon Sanremo. Grazie, noi abitiamo qua. Sì? Eh, sì, io abito qui. E sono contentissimo perché vivo qui. Qui è come paradiso vivere. Io sono proprio, da un anno vivo qui e sono felicissima. E dove sei tu? Russo, russo. Ma sei russo. Ma vent'anni vivo in Italia. Ma vent'anni io sono in Italia. Sì, sì. Va bene. Va bene. Tanto contento. Grazie, signora. Grazie. E lei venezuelana? Venezuelana. Da venezuelana qui a Sanremo. E quest'amicizia? Eh sì, noi hai conosciuto qui? Sì, la prima persona che ho conosciuto qua in Italia è stato lei. Comunque mia amica in tutto il mondo. Io conosco l'Ucraina, Littuania, in tutto il mondo. E vanno d'accordo, noi andiamo d'accordo. Sì. L'importante è stare bene tutti. Vedrete questo Sanremo insieme. Sì, sì. Sono felici, contenti per Sanremo, per la bella... E quest'anno ho fatto bellissimo Sanremo. Sì, sì. Perché l'anno scorso c'è il coronavirus e non c'è questo. No, non c'è niente, tu con maschere chiuse, adesso è bellissimo, complimenti a tutti i designer, a tutti. Sì, 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 a tutti. Va bene. Bellissimo, bellissimo tutto. Grazie, viva Sanremo. Viva Sanremo. Uraaa. Bravo. Grazie. E con l'Ariston alle spalle vi do appuntamento a un'altra puntata di La Stellina Special Edition. Vi ricordo i nostri appuntamenti lunedì, martedì, giovedì e sabato, 19.30, canale 16 Super J. La mail di La Stellina a chiocciola, superj.it, numero whatsapp 35175-324-50. Ringraziamo Fabio le riprese, che non è Fabio e Davide, mi sono giambate, tutta Super J, come dice Cellina. fatti portare, capito di sbagliare anche a quelli grandi, non ridete dietro l'obiettivo. Sì. Ok, e stasera cosa fai, Piazza Colombo, concerto o Festival di Sanremo? Festival di Sanremo, caro Federico, Festival di Sanremo, altrimenti domani in piazza di cosa potrei parlare? Benissimo, io direi che abbiamo chiesto tutto quanto, ringraziamo ancora Stellina per essere stato con noi. Super J.T. Grazie mille. Ti facciamo sapere allora, grazie a tutti, grazie, continua così. Grazie. 80 euro ce li facciamo. Sareba, sareba. E allora tutti lo Stellina.